chi è oro lui dio santo che giocata che giocata basta io vorrei andare sopra per una volta ma ci sono sempre dieci persone io non sono mai sceso sopra il mio però prima volta ci riesco a salire ma dai la rai che mi è venuta attosso e mi ha fatto cadere e siamo a 3s c'era un octane arriva una rai ma come già l'uccisa ce ne sono altre una right l'ho ammazzata ma è pieno di ci sono tre persone qua troppo le troppole spamma le spamma le godo vabbè no finiti i colpi quali pesanti ma qui sotto la mozambique ma dove è uscito è uscito qua ma basta madonna ma quanti abbiamo fatti o arrivo calma no chris no finiti i colpi vabbè le trappole e quanti sono però non aveva uno di vita l'ho fatto con uno di vita e io ho sentito altra gente e che cazzo vuole ce l'hai le cure se andano i colpi leggeri io ne ho ma loctane dove cazzo è andato scappato ha respawnato qua ma sei serio sei serio ne avrà respawnati due lo spammo di trappole lo spammo male no chris è un mini rush mi è scappato è qua vado a soffrire ma avrà dei compagni no qua 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 due compagni o sono il blocco è one shot dov'è la cassa ne è un altro team ma aiaia ha preso la tratta del tizio ma dai che c'è è là sopra ho visto mi ha preso in volo ah tu vuoi scappare maria Lo vedi? Dov'è? È lì Dell'arte Ma non è l'ultimo ancora? L'altro non lo vede Ah era l'ultimo, sì Non ho cura Eh aspetta E non ho colpito i ceri di nuovo Ma che cazzo, quante robe uso Ho raccolto un po' di robe a caso Ah io ho un medikit per da darti Hai raccolto dei polpi Tieni aspetta Ho droppato di tutto Andiamo? Ho la chiave Ah no hanno già aperto Ce n'è un altro o no? No geyser c'è Eh vabbò rip Brutto Ho fatto 7 kill di Pace Keeper In penso Due minuti Madonna Ma? Non è entrato al colpo Che schifo il Pace Keeper C'ha 300 Ci ha rubato il Cardobot Ah boh capirai Era oro? Era viola È un bloody skin di base Ma dai Ricarico gli scudi Ecco 100 115 al pathfinder devi farti il pathfinder quanto hanno? il path shot è scappato si sono curati è oro l'altro prova a curarmi prova prova però ho zero colpi di nuovo arriva chi è oro? lui dio santo che giocata che giocata 10 kill 20 bombe ma io ci c'è qua ho fatto god tipo madonna mai fatta una giocata così bella dio santo incidere incidere altre 10 persona no ma ci c'è ho fatto 10 kill a deposito altre 10 fai 20 vabbò altre 10 fa un culo pacekeeper bilanciatissimo il pacekeeper post patch bilanciatissimo madonna si è bilanciato non c'è un no dei colpi shotgun c'è nessuno c'ha lo shotgun e l'avete visto com'è e nessuno lo porta dietro vergogna però ti perdi tutto il loot ti devo respawnare qua ciao mattuccio dopo gli mando la clip gliela faccio commentare dopo dopo gli mando la clip gliela faccio commentare ah sti qua arrivavano dal vault nico de clutch ma forse era meglio quell'altro dire spawn però vabbò e la bungalore ha quittato pagliaccia ladra ma kevin l'hai vista la giocata di pacekeeper no kevin se non hai visto la giocata di pacekeeper la doppia doppia lifeline e pathfinder è stata tanta roba no kevin non ha visto la giocata kevin ho fatto dieci chili in quattro minuti a deposito ferroviario col pacekeeper c'è un po di gente a respawn no il problema è che non ci arrivo io vivo vabbè altri dieci chili ah si si sta curando ma dove sono quelli a terra se li confermo forse mi prendo le kill giù no il g7 no secondo me almeno due di loro si sono respawnati da soli ma si è schiantato sul muro vedi tutti gli opte non sanno ma dai non buttati a terra 3 non buttati a terra 3 mi sono preso 0 kill non è stato curato ma si? si si ah si si vai mi il rush ultima squadra ti resto e ti prendi tutto il loot va bene? vai 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 eh 35 secondi ah ti resto subito allora devo per forza prendere colpi shotgun qua sotto ho 0 non 0 ah io devo luttare veloce o sennò crap scendi scendi ci sono quattro casse ah lutta una cassa alla specie prendi una casuale piena si sono arrivati sopra scappa via qua di qua di qua è troppo tardi sono in tre non ho fatto intento eh due si tre una un patto scappa nooo di io l'avessi shottato questo magari peccato peccato no fa peccato veramente avevo fatto una partitona cioè se erano più squadre le potete fare 20 no se non avessero pushato subito e ti lootavi forse qualcosa si faceva a me mi hanno sciolto appena sono sceso la madonna 13 kill 3300 danni bella le bonschie grazie per il follow meritato meritato il follow no 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 Grazie per la visione!